Un'ingente quantità di esplosivo è stata sequestrata ieri a seguito di un controllo all'interno della fiera di Catania, dove la polizia ha sorpreso un ambulante di 63 anni intento a vendere fuochi d'artificio appartenenti alla quinta categoria C. L'uomo al quale è stata erogata una contravvenzione è stato deferito all'autorità giudiziaria. Sempre all'interno della fiera sono stati sequestrati 2.106 fuochi pirotecnici, pericolosi petardi e batterie pirotecniche, le cosiddette cassette cinesi, altri 5.480 botti sono stati sequestrati ieri in via Villa Gloria e in via Re Martino.